Villetta ad angolo, quindi libera su tre lati, con ingresso su zona giorno, sale e cucina, tre camere da letto e bagno al primo piano, rustico, bagno, lavanderia e garage al piano giardino e cantina al piano interrato. Ah, ovviamente giardino fronte e retro. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questa villetta in vendita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita.